Che cosa ci separa dalla realtà? Discorso dell'8 luglio 1980 Sahanen Da La fine del dolore L'altro giorno abbiamo parlato dei milioni di anni di evoluzione, attraverso i quali sono passati gli esseri umani. Evoluzione implica tempo. Non solo tempo fisico, ma anche tempo interiore, psicologico. Fin dal principio del suo esistere sulla Terra, l'essere umano è cresciuto passando attraverso esperienze di ogni genere, sventure, disgrazie, ansie, paure. Così il nostro cervello ha assunto una determinata struttura, venendo modificato e plasmato dalle condizioni di vita in cui si è trovato ad evolvere. La struttura del cervello è il risultato di quel processo nel tempo, che chiamiamo evoluzione. Ora, la mente e il cervello, che sono una sola e unica cosa, non potranno mai essere liberi. Stiamo cercando di scoprire per quale motivo gli esseri umani, pur avendo ormai dietro alle spalle milioni di anni di esperienze di dolore, di pace, di paura, continuino a vivere tuttavia sempre allo stesso modo. Ci siamo chiesti l'altro giorno quale potrebbe essere la causa di questa situazione terrificante di incertezza, di confusione e di sofferenza. E abbiamo detto che una causa potrebbe essere il fatto che l'essere umano non ha mai rinunciato, nemmeno per un momento, alla ricerca della propria sicurezza, sia esteriormente, nella sua relazione con l'ambiente, sia interiormente, sul piano psicologico. Questa potrebbe essere una delle cause che hanno determinato l'attuale miserevole situazione. Abbiamo parlato anche dell'idea della propria individualità, che gli esseri umani si sono formati durante tutto il periodo della loro evoluzione. L'idea che io sono separato dagli altri e che devo lottare contro di loro per sopravvivere. Anche questa potrebbe essere una causa della sventurata situazione attuale di spaventoso disordine. Poi abbiamo detto, una delle cause più determinanti potrebbe essere proprio il pensiero. E abbiamo sottolineato il fatto che dove c'è una causa esiste anche la possibilità di eliminarla. Una causa, un motivo che producono i loro effetti, continuano nel tempo. Ma si può porre fine alla causa. È un fatto evidente che, credo, possiate vedere facilmente se ci pensate un attimo. Se c'è dolore fisico, esiste anche una causa che lo determina. E il dolore finisce quando ne viene eliminata la causa. In modo del tutto analogo, le nostre sofferenze psicologiche, le angosce, le paure, potrebbero avere una causa che le determina. Ma allora, l'eliminazione della causa porrebbe fine al dolore. Ora, la nostra situazione ha diverse cause? Oppure ce n'è una sola, fondamentale, che le comprende tutte quante? Capite? Dicevamo prima che una causa potrebbe essere il costante desiderio di sentirci sicuri, protetti, senza incertezze, appoggiati a qualcosa di stabile. Una seconda causa potrebbe essere l'individualismo, che ha portato l'essere umano a considerarsi separato dal resto dei suoi simili e a creare, tra sé e gli altri, una barriera insormontabile. Un'altra causa potrebbe essere proprio il pensiero stesso. L'uomo e il suo cervello, la sua mente, si sono formati in un periodo di evoluzione durato milioni di anni. Ma il tempo non ha portato la libertà agli esseri umani. Può essere stata raggiunta una parvenza esteriore di libertà. È possibile viaggiare da un paese all'altro, è possibile cambiare il lavoro e fare diversi mestieri, evidentemente non in un paese dove ci sia un regime dittattoriale, ma nei paesi cosiddetti democratici esiste una certa libertà di movimento. Tuttavia, interiormente, sul piano psicologico, la mente, che include in sé anche il cervello, è un prodotto del tempo e quindi non potrà mai essere libera. Forse è questa una delle ragioni per le quali l'essere umano si è ridotto psicologicamente a vivere come un prigioniero, privo della libertà di aprirsi e di fiorire. Se mi consentite di ricordarvelo, vi prego, pensiamo insieme. Dovete superare la vostra mente, il vostro cervello, il vostro cuore, se volete scoprire la causa di quanto sta accadendo nel mondo, perché se non faremo una scoperta simile, finiremo per distruggerci tutti quanti. Ed è esattamente quello che sta succedendo. Una nazione vuole essere più importante di tutte le altre. Una tribù pretende di avere il sopravvento sulle altre. Si producono armi di ogni genere. Lo sapete, vero? 400 miliardi di dollari spesi ogni anno per la guerra. Capite la follia di tutto questo? La mente e il cervello, che sono il risultato di un processo nel tempo, non sono mai stati liberi. Ma senza libertà, l'essere umano non può schiudersi, non può fiorire, non può in alcun modo andare al di là di se stesso. Interiormente, non siamo liberi. Col passare del tempo, abbiamo acquisito una determinata struttura. Se osservate la vostra mente, se guardate come funziona il vostro cervello, vi accorgerete che non facciamo altro che rimanere sempre entro certi schemi determinati, che vanno ripetendosi da migliaia e migliaia di anni. In occidente, i preti ci hanno lavato il cervello per duemila anni. In oriente, questo lavaggio del cervello dura da quattromila anni, cinquemila anni o forse più. In oriente, questo lavaggio del cervello dura da quattromila, cinquemila anni o forse di più. Il nostro cervello è condizionato, si è formato subendo determinate imposizioni, rimanendo sotto la continua influenza di quanto hanno affermato insegnanti, filosofi e preti. I preti diventano il ponte tra voi e ciò che è al di là di voi. Loro sono i salvatori. Forse questo poteva andare bene molto tempo fa, ai tempi dell'antico Egitto e delle antiche civiltà orientali, ma ora tutto ciò è diventato qualcosa di veramente infantile. Sul piano intellettuale, scientifico, tecnologico, l'uomo ha fatto enormi progressi, ha acquisito un'abilità straordinaria, non soltanto nell'uccidere i suoi simili, ma anche nel curarli e guarirli. Con la medicina, con la chirurgia. L'altro giorno abbiamo parlato del tentativo che fa la scienza di scoprire, per mezzo dello studio della materia, quello che sta al di là di tutte le cose. Studiando la materia dall'esterno e raccogliendo un'enorme quantità di conoscenza, si spera di arrivare a scoprire l'origine di tutto. È questo che fanno gli scienziati. I religiosi, invece, affermano che c'è Dio e che Dio ha creato questo mondo. Quel Dio deve essere davvero un povero Dio, degenerato e corrotto, se ha fatto un mondo come questo. Anche poi, a vostra volta, potrete avere la vostra personale e insignificante teoria a proposito del mondo e della sua origine. avendo studiato le teorie intellettuali di filosofi, di teologi, di teorici, di teorici comunisti e di teologi cristiani, potreste essere arrivati a farvi la vostra propria opinione e a formulare le vostre proprie conclusioni. Ma è evidente che se volete veramente arrivare a scoprire l'origine di tutto quanto accade, dovete mettere da parte, completamente, ogni cosa che sia stata detta finora. Per fare questo, però, avete bisogno di forza e capacità di penetrazione che vi consentano di osservare i fatti con estrema accuratezza. Non vi serve l'analisi. L'analisi è ancora un processo che si sviluppa nel tempo. Abbiamo analizzato a non finire tanto il mondo fuori di noi quanto il mondo che è dentro di noi. Filosofi e psicologi hanno analizzato il modo di funzionare della nostra mente, arrivando a formulare determinate conclusioni, determinate teorie. E noi abbiamo subito in modo inevitabile l'influenza di questa gente. Ne siamo stati condizionati. Ma se vogliamo arrivare a scoprire la causa fondamentale della situazione attuale, è necessario essere liberi da qualsiasi condizionamento. Interiormente deve esserci libertà. Libertà non significa andare dove vogliamo, sceglierci il lavoro che preferiamo o dire quello che ci pare. La vera libertà esiste quando il cervello, la mente, l'intera struttura psicologica sono ripuliti da qualsiasi schema di funzionamento, da qualsiasi modello di comportamento che ci siano stati imposti. Se siete delle persone serie, non può bastarvi affrontare soltanto oggi o una volta ogni tanto questa indagine che stiamo conducendo insieme. La vostra ricerca, la vostra osservazione devono essere ininterrotte. È necessario avere grande pazienza. Sapete, impazienza è tempo. La pazienza, invece, non è del tempo. Pazienza significa osservare da vicino con grande cura e attenzione. Significa non avere fretta e avanzare a poco a poco senza stancarsi. Questa è pazienza. e in questo modo di osservare non c'è l'ansia del tempo. Ma quando vi lasciate prendere dall'impazienza di andare avanti, vi mettete a correre senza capire da che punto siete partiti. Allora, qual è la causa che determina questo nostro povero modo di vivere? Forse è l'esigenza di sentirci sicuri? Oppure è l'illusione di crederci gli uni separati dagli altri? O è l'illusione di credere che il nostro cervello sia diverso da quello dei nostri simili? La nostra mente e il nostro modo di fare sono davvero diversi dalla mente e dai modi di comportamento degli altri esseri umani? La causa che stiamo cercando è il pensiero non esiste pensiero occidentale e pensiero orientale il pensiero è pensiero in qualunque posto viviate in qualunque posto viviate sia che viviate in Asia sia che abitiate in Estremo Oriente in Medio Oriente o in Occidente avrete sempre a che fare col pensiero Potranno esserci modi particolari di pensare potranno esserci direzioni particolari in cui il pensiero si muove o modelli particolari secondo i quali il pensiero si conforma ma è pur sempre il pensiero ad essere in gioco è pur sempre pensiero sia che lo si usi in Oriente o in Occidente sia che subisca condizionamenti diversi in differenti ambienti Allora la causa fondamentale che stiamo cercando è il pensiero? Guardate qual è storicamente il modo di vivere degli esseri umani un continuo combattere tra di loro un andare avanti nel tormento nell'angoscia portandosi dietro conflitti e paure che sembra impossibile abbandonare C'è la ricerca del piacere e il costante imbattersi nella sofferenza C'è qualche raro sprazzo d'amore che immediatamente diventa un fatto sessuale mentre la compassione non ha mai potuto essere una realtà vivente è rimasta soltanto un'idea vi prego andiamo avanti insieme e procedendo insieme fianco a fianco per la stessa strada non ci serviremo delle analisi dobbiamo capire che cosa significa analisi analisi implica divisione vi pare c'è colui che analizza e quello che viene analizzato colui che analizza presume di sapere e quindi di essere capace di analizzare scopritelo nella vostra mente il processo di analisi richiede tempo forse oggi non sono capace di vederci chiaro e di analizzare a fondo la situazione ma imparerò e arriverò a saperlo fare mi serviranno giorni settimane mesi per imparare l'arte di analizzare tuttavia rimarrà la divisione tra colui che analizza è quello che viene analizzato colui che analizza impone all'intero processo il suo modo di vedere e il suo modo di giudicare e di interpretare così l'analisi non solo si basa sul tempo ma anche su una separazione insormontabile tra l'analizzatore e l'analizzato supporre che l'analizzatore sia completamente diverso dall'analizzato è diventato uno dei nostri condizionamenti più profondi ma è davvero così? colui che analizza non fa parte di quello che viene analizzato? quando comincio ad analizzare la mia angoscia come faccio a sapere che quello che sto analizzando è angoscia? capite? lo so perché mi ricordo esperienze di angoscia che ho avuto tempo fa queste esperienze mi sono impresse nel cerpello e me ne ricordo quando poi allugo in me una reazione simile la riconosco e la chiamo angoscia così mi separo da quello che accade per analizzarlo ma guardate che cosa succede per esempio quando vi arrabbiate nel momento in cui andate in collera non c'è alcuna differenza tra voi e la vostra collera questo è il fatto soltanto più tardi potrete dire mi sono arrabbiato allora possiamo renderci conto che l'analisi implica e mantiene una divisione costante tra colui che osserva e quello che viene osservato come se fossero entità diverse e distinte evidentemente mi sto riferendo al piano psicologico non sto dicendo che non c'è alcuna differenza tra me e un albero è chiaro che c'è differenza ma quando la differenza esiste a livello psicologico quando ritenete di essere diversi da quello che osservate dentro di voi a livello psicologico allora questa divisione porta con sé il conflitto quando tentate di essere quello che non siete prendete la direzione dello sforzo e del conflitto il nostro gerbello ha vissuto e si è sviluppato muovendosi proprio in questa direzione ora noi diciamo un processo di analisi non porterà mai alla libertà al contrario non farà altro che mantenere e alimentare il conflitto ma una mente un cervello che vivono nel conflitto non possono fare a meno di consumarsi così non potranno mai essere in uno stato di freschezza non potranno mai sbocciare e fiorire in questo stato l'analisi rende impossibile osservare con chiarezza essere capaci di osservare è molto più importante che avere una mente analitica ti ringrazio molto per aver visto e ascoltato questo video sperando che porti consapevolezza e gioia nella tua vita metti mi piace e iscriviti al canale Doeia per ascoltare altri contenuti simili ci vediamo al prossimo video